Francesco Dauria in camera per questo appuntamento speciale dalla sede della Paganese Calcio per parlare del finale di Calcio Mercato che ha visto la Paganese quale protagonista assoluta sul mercato della seconda divisione con il direttore generale Cosimo Cocchino Deboli ciao Cocchino ciao ciao Beppe allora ci siamo dobbiamo fare un resoconto il voto più alto è quello della Paganese secondo gli addetti ai lavori voto 9 per il mercato che avete messo insieme non lo diciamo noi lo diciamo anche noi ma lo hanno detto soprattutto le testate nazionali Corriere dello Sport Gazzetta e tutto sport domenica si comincia e il campo comincerà a dare anche i suoi primi riscontri speriamo che tutto il lavoro svolto insieme di campagna acquisti domenica spero che partiamo con il piede giusto visto che tutti i favori del pronostico ci danno a noi a Perugia davanti a tutti però io ci credo poco a questi non è che ci credo poco so il lavoro che abbiamo fatto e sappiamo anche qual è il nostro obiettivo quindi cercheremo di partire con il piede giusto proprio per dare più forza all'esterno di quello che è stato fatto come campagna acquisti. Il Perugia di Tozzi Borsoi la Paganese di Fava di Scarpa di tanti altri giocatori poco fa da queste parti è passato un certo Andrea Tricarico insomma è una Paganese amici di Piazza Mercato che sicuramente si presenta come dicevi tu ai nastri di partenza in prima fila è un obbligo quello di vincere o deve essere soltanto un riscontro rispetto a quanto sono stati fatti quanto è stato fatto dal punto di vista degli investimenti? Dal punto di vista degli investimenti è sotto gli occhi di tutti che la Paganese vuole fare un campionato vuole primeggiare è normale che ci sono anche gli avversari come io porto rispetto però il rispetto verso gli avversari è un conto andare a fare risultati su campi importanti tipo Perugia Catanzaro non è facile però noi abbiamo la squadra costruita anche per questo poi volevo anche precisare una cosa sono stato veramente contento da parte della proprietà che mi ha messo a disposizione visto anche le vicissitudini passate voglio ringraziare la famiglia Trapani e tutta la società per quello che stanno facendo vicino al sottoscritto per far sì di portare all'esterno quello che è il nostro credo il calcio vero quello sudato quello che veramente va presso i risultati. Famiglia Trapani tu mi dicevi telefonicamente nelle scorse ore praticamente a ridosso della chiusura del mercato che non ci si tirerà indietro per qualsiasi cosa nel senso che se la Paganese vi accorgerete non è al completo in ogni reparto ci si può ancora